luminar neo spegne la sua prima candelina il software di post produzione di skyloom è ormai maturo costa poco può essere fantastico per tanti foto amatori ma è anche un ottimo alleato per molti professionisti in una decina di minuti ti spiego tutti i concetti fondamentali e sarai già in grado di ritoccare le tue fotografie stai con me fino alla fine perché ti svelo anche come avere luminar neo a meno di metà prezzo ciao sono mariano di video zappo punto utilizzo luminar sin dalla prima versione disponibile per windows e ho anche realizzato corsi di post produzione fotografica basati su ciascuna delle versioni di luminar che sono state via via disponibili negli anni trovi tutti i dettagli nella descrizione qui sotto magari ne parliamo più tardi ecco come si presenta luminar neo appena dopo l'installazione tra un attimo ti spiego come averlo a prezzo stracciato per ora non perdiamo tempo il menu di luminar quello che normalmente nei vari programmi si trova qui sopra è nascosto qui sotto al logo l'ambiente di lavoro è diviso in queste tre aree quella che stiamo vedendo è il catalogo poi ti mostro le altre sulla destra ai le informazioni rispetto al file selezionato e queste tre finestre che appartengono a delle estensioni cioè dei piccoli moduli che sono inclusi nell'abbonamento pro e che puoi comunque acquistare a parte e che ti permettono di svolgere in maniera professionale alcuni compiti specifici a noi quello che interessa adesso è importare le foto su cui dobbiamo lavorare possiamo farlo da qua aggiungi foto e possiamo aggiungere sia una singola immagine per delle modifiche al volo che un'intera cartella noi aggiungeremo questa cartella con delle foto di esempio la velocità del processo di importazione dipende da quante immagini ci sono nella cartella e da quanto sono grandi considera che tutte le modifiche che andremo a fare sono virtuali le immagini non vengono toccate le nostre modifiche vengono salvate nel cosiddetto catalogo cioè un luogo dove luminar neo così come tanti altri software scrive le modifiche che andiamo ad apportare la post produzione con luminar può essere un processo molto veloce ci spostiamo nell'interfaccia di modifica e qui abbiamo una serie di strumenti che sono divisi per gruppi qui sopra hai l'istogramma le proprietà del layer che sono un argomento piuttosto avanzato la possibilità di ritagliare l'immagine ma anche di avvalersi dell'intelligenza artificiale che da sola stabilisce quale potrebbe essere un taglio efficace per quella immagine luminar neo è pervaso dall'intelligenza artificiale questa intelligenza artificiale gira sul computer locale per cui le tue immagini non vengono inviate in rete un'ottima cosa per la privacy ma chiaramente deve avere una macchina sufficientemente potente da gestire questo processo ci sono poi questa serie di strumenti divisi per categoria abbiamo le estensioni di cui ti accennavo prima ce ne sono delle altre disponibili qua in modifica abbiamo poi gli strumenti essenziali e qui troviamo lo sviluppo raw che da solo può svolgere già la stragrande maggioranza delle funzioni che normalmente sono incluse in un software di sviluppo raw e qui possiamo regolare i toni dell'immagine ad esempio aggiungere un po di contrasto ridurre un po le alte luci vedi per questa zona qui sopra del cielo magari tirar fuori leggermente le ombre nella sezione colore possiamo sistemare il bilanciamento del bianco che era un pochino troppo freddo abbiamo a disposizione una sezione dedicata alla correzione dei difetti dell'obiettivo così come una dedicata alla riduzione del rumore all'incremento della nitidezza e anche questa molto importante per correggere le linee verticali ma per ora fermiamoci qui perché voglio farti vedere questo strumento qui che è assolutamente fenomenale si chiama migliora con ai e da solo spostando questo cursore può trasformare un'immagine da qualcosa di abbastanza anonimo a un'immagine praticamente bella che pronta io ti consiglio di non esagerare con questi cursori hai anche un cursore dedicato al miglioramento del cielo e altro strumento interessantissimo sempre l'intelligenza artificiale è questo si chiama struttura e fa più o meno quello che in lightroom fa la chiarezza con la differenza che grazie all'intelligenza artificiale interviene in maniera mirata sulle zone che a giudizio del software hanno necessità di questo tipo di intervento in luminar neo puoi sempre intervenire con le maschere per dosare l'intervento dunque agire di più su alcune zone o di meno o per niente in altre ti voglio far vedere anche nella sezione dedicata agli strumenti creativi quella per sostituire il cielo è un'attività che sarebbe piuttosto complessa da fare a mano ti faccio vedere quello che riesce a fare luminar con un singolo click qui sopra ai suggerimenti per questa foto e guarda che bel lavoro volendo possiamo anche scegliere quest'altro cielo che forse è un pochino esagerato per questa immagine credo che questo sia decisamente più adatto hai tutta una serie di altre impostazioni che puoi regolare ti faccio vedere soltanto questa qua che adatta la luce sull'immagine per renderla conforme a quella che arriva dal cielo e in questo modo l'intera immagine avrà un aspetto più naturale questa era l'immagine originale questo il lavoro che abbiamo eseguito in un paio di minuti luminar non è certo soltanto paesaggio e voglio mostrarti quello che può fare con il ritratto e per farlo ci spostiamo un momento nei preset per mostrarti quest'altra funzione questi sono alcuni dei miei preset che trovi linkati in descrizione e qui possiamo scegliere quale possa essere il più adatto per la nostra foto possiamo farlo guardando al volo il risultato nota che quando luminar ha il logo in questa condizione significa che sta lavorando questi preset fanno ampio uso di intelligenza artificiale per sistemare vari aspetti dell'immagine adesso li vediamo di conseguenza hanno necessità di un po di tempo per essere applicati specialmente quando applichi un preset per la prima volta che richiama una determinata funzione può essere necessario un po di tempo vedi questa è l'immagine originale questo il risultato del nostro preset diciamo che non siamo soddisfatti e proviamo per esempio quest'altro diciamo che non ci piace neanche questo questo il prima questo il dopo in realtà andrebbero assolutamente bene entrambi ma quello che voglio mostrarti è questo qui perché vedi sembra fare tantissimo alla foto questo è l'originale questo il risultato ma voglio mostrarti quanto sia semplice ottenere questo risultato quanti pochi passi siano stati necessari il vantaggio dei preset è che se ti sposti qui nella sezione modifiche puoi vedere tutto quello che è stato il ragionamento che il professionista l'autore di questi preset ha fatto e il flusso di lavoro che ha seguito il flusso di lavoro va dal basso verso l'alto quindi questa prima operazione questa è l'ultima e tu puoi ripercorrere ciascuno di questi passi a iniziare in questo caso dallo sviluppo raw dove vedi praticamente non è stato fatto nulla se non applicare le correzioni tranne la distorsione che su questo genere di immagine in generale sui tratti non è che serva a granché c'è poi un intervento sul colore vedi che ha diminuito la saturazione aumentato la vividezza e c'è questo cursore che è piuttosto peculiare di luminar nio e che ti permette di togliere le dominanti cromatiche quella sorta di elo che delle volte pervade alcune foto è piuttosto comodo ed efficace da utilizzare nei preset perché anche se hai regolato il bianco in maniera un po approssimativa con questa correzione riesci a sistemare le cose lo strumento colore ti permetterebbe anche di intervenire in maniera granulare sulla hsl e qua iniziano gli strumenti dedicati specificatamente al ritratto che sono assolutamente efficaci e adatti anche ai professionisti perché fanno un gran bel lavoro estremamente naturale e soprattutto ci vuole veramente un attimo questo è lo strumento per la pelle ti faccio vedere così e senza così e con ovviamente è del tutto configurabile il livello dell'intervento hai una sezione completissima sul viso che ti permette di sistemare sia il viso nel suo complesso che nello specifico occhi bocca e denti hai un controllo dedicato alla forma del corpo e poi in questo preset è utilizzato un accenno di effetto orton che vedi da questo aspetto bello luminoso e qui iniziano le cose particolari questo preset utilizza una latte un piccolo file che serve a gestire la colorimetria dell'immagine questa latte in particolare l'ho sviluppata personalmente fa parte di un pacchetto che trovi linkato nella descrizione e del quale ti ho parlato nel dettaglio in un video linkato anch'esso nella descrizione della card qui sopra che serve a simulare in maniera estremamente accurata l'aspetto della pellicola rispetto alla normale conversione in bianco e nero qui abbiamo il vantaggio di poter decidere quanto interviene questa latte per cui vedi possiamo convertire l'immagine completamente in bianco e nero o così come era invece nel preset utilizzare ancora un minimo dell'immagine a colori e alla fine c'è il tonificante traduzione raccapricciante dello split toning che serve per dare un colore differente alle zone delle ombre ea quello delle alte luci questo è il preset completamente scomposto e tu qui puoi intervenire su ciascuno di questi passi modificarlo ed adattarlo alle tue necessità tieni presente che tutti questi strumenti sono in realtà quelli disponibili qua nel pannello strumenti di luminar nio dove ritroviamo le stesse voci che abbiamo visto nel preset e delle altre che non abbiamo utilizzato per esempio vedi la e chi se volessimo potremmo aggiungere anche questo controllo decidendone il livello dell'intervento e lo troveremo poi qua nelle nostre modifiche questa è l'immagine originale questo il risultato raggiunto con il preset e questo piccolo intervento che abbiamo fatto a mano ti ripeto puoi modificare tutto quello che trovi qui per esempio vogliamo rendere la pelle più simile all'originale o al contrario molto più lisciata possiamo farlo e quando ci spostiamo qua in cima alle modifiche vediamo il risultato finito ricorda che nel momento in cui ci spostiamo luminar nio deve ricalcolare tutto quello che si trova al di sopra dello strumento che abbiamo alterato dunque può impiegarci anche qualche istante a rifare tutti i suoi calcoli che ti ripeto vengono in locale questa era l'immagine originale questo il risultato che abbiamo ottenuto ovviamente possiamo salvare questo nuovo risultato quindi le variazioni che abbiamo fatto ai vari strumenti più lo strumento che abbiamo aggiunto in una nuova preimpostazione basta spostarsi qua su azioni e schiacciare salva preimpostazione puoi acquistare questi o diversi altri preset dal video zappo fan club sono tutti divisi in pacchetti e sono facilissimi da utilizzare ti lascio il link nella descrizione qui sotto sia questi preset che tanti altri prodotti del video zappo fan club hanno un modello di prezzo a sottoscrizione dove ciascuno può decidere quanto pagare ti prego di sfruttare questa opportunità con coscienza io ho adottato questa filosofia per consentire a tutti anche a chi non ha tanti soldi da spendere di ottenere comunque asset e formazione di qualità però se hai qualche soldo in più da spendere o se utilizzerai questi strumenti per lavoro fai la cortesia pagali a prezzo pieno cerchiamo di rispettare questa filosofia di utilizzare questa opportunità con coscienza la nostra foto è pronta ma ora come facciamo ad utilizzarla dobbiamo esportarla ed abbiamo varie opzioni la possiamo esportare in una cartella utilizzando uno dei tanti formati supportati da luminar ma se volessimo invece condividerla abbiamo un'opportunità interessantissima schiacciando qua su connetti a un device io posso attivare dal mio cellulare luminar share schiaccio scansiona qr code inquadro il qr code sul monitor e a questo punto tra le opzioni di esportazione avrò questa qua invia al dispositivo parte l'esportazione dunque il processo con cui viene creata l'immagine finale e in un istante la trovo sul mio telefono eccola qua pronta per essere condivisa basta schiacciare l'apposito pulsante davvero una grande comodità una ottima integrazione tra il software e i dispositivi mobili come immagini abbiamo soltanto scalfito la superficie vedi che gli strumenti sono tantissimi tra i professionali di segnalo uno dei miei preferiti l'armonia dei colori che ti permette una gestione molto avanzata del colore in maniera semplicissima e il super contrasto che fa qualcosa di simile a quello che fa la curva dei toni ma in maniera molto più semplice da gestire se vuoi approfondire qualche argomento fammelo sapere nei commenti qui sotto come t'accennavo ho un corso completo su luminar neo non è un manuale del software è molto di più è un corso di post produzione completo ci sono tante anteprime gratuite che puoi guardare anche senza registrarti dunque dagli un'occhiata se vuoi acquistarlo col codice coupon youtube risparmi un ulteriore 10 per cento link in descrizione t'accennavo all'inizio che luminar neo è in offerta per il suo primo compleanno è un'offerta molto molto conveniente il link nella descrizione qui sotto il piano in questo momento più conveniente è il pro che comprende tutte le estensioni ti dà un anno di abbonamento scontato più un ulteriore anno gratis dunque risparmi oltre il 50 per cento e ti vengono regalati anche un pacchetto di preset simili come concetto a quello che ti ho mostrato prima oltretutto avrai anche uno sconto del 10 per cento sugli eventuali acquisti che volessi fare nel marketplace di skyloom col codice coupon video da poi un ulteriore sconto del 10 per cento su questo prezzo già stracciato la licenza explore costa poco di meno puoi installarla su un solo pc anziché su due e non comprende le estensioni dunque a mio avviso non è un grandissimo affare se hai particolare antipatia per gli abbonamenti è in offerta scontata anche la versione con licenza perpetua in questo caso avrai una licenza per un solo computer un eventuale secondo computer puoi acquistarlo a un prezzo molto conveniente ma le estensioni non sono comprese e puoi comunque acquistarle sempre in questo momento ad un prezzo scontato e ne hai anche una comunque in omaggio ti ricordo il coupon video zappo che anche in questo caso ti dà uno sconto del 10 per cento ti ricordo che questa promozione per il primo anniversario di luminar neo terminerà il 28 febbraio dunque ti conviene dar subito un'occhiata considera che hai 30 giorni di tempo se il software non dovesse piacerti o non dovesse funzionare sufficientemente bene sul tuo computer per richiedere indietro tutto quello che hai pagato basta che mandi una mail al supporto tecnico di skyloom io ho dedicato tanti altri video a luminar neo ti linko l'intera playlist qui accanto dal pulsantone qua in mezzo puoi accedere al video zappo fan club dove trovi il mio corso ma anche i tanti preset per luminar neo ti ringrazio per aver guardato questo video condividi questo video fai sapere a tutti di questo software ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video